Buongiorno a tutti e buongiorno a Massimo Pagani, garante per l'infanzia e l'adolescenza di Regione Lombardia. Buongiorno. Dottor Pagani, nel 2009, con la legge regionale numero 9, è stata istituita la figura del garante per l'infanzia e l'adolescenza, con l'obiettivo di tutelare e garantire la tutela dei minori. Quali sono le funzioni di questa figura? Prima di tutto possiamo dire che il garante dell'infanzia e dell'adolescenza, che ho il piacere ovviamente di ricoprire come incarico dal 2015, e a un'autorità indipendente, che svolge ovviamente molteplici funzioni, come è facile e intuibile. Tra queste vi è quello ovviamente importante di garantire l'impegno alla diffusione e alla promozione di tutte quelle che sono la cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, evidenziando ovviamente quali sono i soggetti titolari di diritti, quali minori, ai quali ovviamente viene riconosciuto un'importanza principale, ovviamente senza discriminazione. Bisogna ovviamente anche considerare che uno degli impegni che noi abbiamo importante è quello di verificare il piano della normativa vigente nazionale e internazionale, perché dobbiamo ovviamente garantire che tutto vada a buon fine. Per quanto concerne poi il tema delle segnalazioni, è chiaro che interveniamo nel momento in cui vi sono conflitti gli interessi tra minori e adulti, che sono ovviamente titolari della potestà genitoriale, perché dobbiamo ovviamente preservare il minore da un possibile rischio legato all'incolumità, garantendo l'incolumità sia fisica che psicologica per i ragazzi e attivando nel caso ovviamente le autorità competenti nel caso di segnalazione o nel caso sia importante ovviamente un intervento da parte di questi organi. Benissimo, quali sono invece le politiche poste in essere da Regione Lombardia? a tutela di questi minori. Regione Lombardia ha orientato un po' tutta la sua azione alla tutela dei minori, mettendo come focus la famiglia e tutti i componenti della famiglia, quindi sviluppando tutta una serie di attività e di approcci integrati con le istituzioni al fine di garantire ovviamente il benessere dei minori. Tenete conto che i temi spaziano su quello che è l'attività nell'ambito del welfare in diversi piani, in diversi ambiti, quello sociale, quello sanitario, quello sociosanitario. C'è da dire inoltre che bisogna in ogni caso intervenire a volte, lavorando anche sul piano del Consiglio, consigliando dei protocolli o delle azioni immediate che a volte devono essere anche molto tempestive per preservare ovviamente l'incolumità del minore. Benissimo, ma nel concreto, Dottor Pagani, come e quando si può richiedere l'intervento dell'autorità garante che le rappresenta? Ma chiunque può presentare, ciascun cittadino, quindi anche i minori stessi, le famiglie, le associazioni, eccetera, possono attivare l'attività del garante. Il garante facendo una classica segnalazione, quindi attivando di fatto in capo al garante una procedura di controllo e di verifica. Partiamo dall'inizio, l'attivazione è molto semplice, basta rivolgersi a noi in forma scritta, ovviamente in un'anonima, indicando ovviamente quelli che sono gli elementi minimi che si vogliono sottolineare e le situazioni magari di criticità nelle quali sono esposti i minori, legati ovviamente a un rischio presunto o individuato. Poi ovviamente noi procederemo con un'istruttoria, faremo tutti quelli che sono gli accertamenti necessari e da ultimo decideremo, prenderemo una decisione che comunicheremo alle parti. È ovvio che agiremo anche sul piano della verifica degli effetti che si sono determinati andando a capire se tutto va bene oppure se c'è stato qualche cosa che non ha funzionato. Benissimo, dottor Pagani, prima abbiamo parlato delle funzioni del garante e quindi anche quella della diffusione di una cultura e la promozione di una cultura dedicata all'infanzia e all'adolescenza. Ad oggi che cosa è stato fatto? Abbiamo agito moltissimo anche nell'ambito delle scuole, stiamo lavorando ovviamente nell'ambito degli asili, diciamo così in tutti gli ambiti nei quali ovviamente c'è da prestare maggiore attenzione, una grande attenzione ai minori. Bisogna ovviamente agire sul piano dell'educazione, educazione civica sensibilizzando ovviamente i giovani. Stiamo lavorando anche per avvicinare i giovani alla cultura con un bellissimo progetto anche perché pensiamo che per debellare, scardinare delle cose negative come i fenomeni di bullismo, eccetera, c'è da far vedere ai ragazzi ovviamente delle cose molto positive, cioè il bello e la cultura e il nostro territorio. Grazie dottor Pagani, ricordiamo a chiunque avesse bisogno dell'aiuto e dell'intervento del Garante per l'infanzia e l'adolescenza di Regione Lombardia può trovare tutte le informazioni al sito www.consiglio.regione.lombardia.it slash garante trattino infanzia oppure rivolgersi gratuitamente ai numeri che vedete in sovrimpressione.